Andre Michele, oltre ad essere parroco, si è tanto calato ad addentrarsi nei nostri problemi, caricandosene. Non c'è mai stata differenza tra un bimbo che non può camminare, tra un bimbo che può saltare. Lui si è messo a terra a giocare con i bambini, dandogli la possibilità a mio figlio di non sentirsi diverso. Quando la parte sociale contrasta la parte religiosa, lui non può andare contro i suoi valori e deve insegnare ai suoi figli i suoi valori, che è la fede, la carità, l'amore, senza essere corrotto in certe cose. E probabilmente questo ha scosso un pochino tante persone. Probabilmente il nostro quartiere non lo merita, perché è troppo grande, è troppo buono. Noi non possiamo accettare, come persone vicine a padre Michele, di rinnegare tutto quello che in prima linea lui si è messo, dando la propria vita. E noi sappiamo anche, come voi il giornale avete scritto anni fa, che lui è stato anche pestato con suo padre. Lui dire che non ha fatto niente per il sociale. Che cosa doveva fare? Come padre Pugli si fasse ammazzare per riconoscerlo che lui ha fatto qualche cosa per il sociale. Noi non possiamo accettare questa grande menzogna che rovina la dignità di un sacerdote, di un padre, di un missionario che ha dato la sua vita ed essere sporcato il suo nome e di dire che lui non sa fare niente per il sociale. Tutte queste persone, ognuno di noi, fa un servizio. Le mamme fanno le catechiste. Ogni giovedì facciamo pulizia. Ogni giovedì fa coltosa. Esattamente. Le mamme fanno, oltre le catechiste, pulizia a chiesa. Il giovedì, il venerdì, ci riuniamo i maschietti e le femminucce e disinfettiamo la chiesa, che di questo periodo è molto importante. Ma non solo da oggi, da tanti anni facciamo questo. Questo è quello che volevo esprimere per padre Michele, perché padre Michele ci ha saputo accogliere. Per me oggi la chiesa è accoglienza. Padre Michele ha saputo accogliere tante famiglie. I nostri figli li ha tolti in mezzo alla strada, perché sappiamo che cosa c'è allo zen. Tutto quello che hanno detto contro padre Michele, secondo me, è ingiustizia. Il fatto di dire che padre Michele non si sia impegnato nel sociale o non si sia impegnato per questa parrocchia va contro ogni realtà, perché basta alzare gli occhi e vedere tutto quello che lui ha fatto per noi. La cosa è molto semplice. Noi dobbiamo dare un messaggio molto chiaro a queste persone e dire venite qua nel quartiere, venite all'interno del piazzale e venite a vedere quanti bambini giocano all'interno di questo piazzale e venite a vedere il lavoro del padre Michele. Venite a vedere, perché se le persone non entrano qua, non guardano, non lo capiranno mai. Io sono stato il primo, come loro, ad essere salvato da questo contesto. Cioè io potevo diventare, lo dico così, semplicemente un ragazzo che cadeva in qualsiasi cosa, nelle cose più brutte che si possano capitare, come anche loro. Quel tipo di sacerdote che appunto ha preso noi e ci ha levato dalla strada per far capire la strada giusta, aprirci, insegnarci e anche metterci nella strada del lavoro. Ha fatto tanto per noi, ha fatto tanto per noi. Queste cose che si dicono sono assolutamente falsità. Nel momento della pandemia si parlava che questo sacerdote non ha fatto niente per i poveri. Io confermo che andavo io a portare la spesa ai poveri, perché il nostro sacerdote mi chiamava e diceva portiamo questa spesa a questa famiglia. Io posso confermare che questo santo sacerdote nel momento della pandemia aspettava la fila in farmacia per comprare dei farmaci a chi non poteva uscire e a chi non aveva la possibilità.